Ragazzi, 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 giornata ricca di news, di indiscrizioni, ricca di, ricca di, sempre come al solito con lo stemma di Tordivalle sotto la maglietta della Roma, è molto importante averlo Novità importanti ragazzi, perché stanno incominciando a circolare fortemente delle voci su dei ritorni su dei ritorni importantissimi, sto aprendo tutte le testate giornalistiche, anche quelle un pochettino così che sembrano tipo Topolino, le voglio aprire perché voglio leggere le prime indiscrizioni e insomma, sembra evidente che Bruno Perez, state aspettando tutti le notizie su Bruno Perez dite la verità, dite la verità poi cavalli golosi, state aspettando la notizia su un Bruno Perez che ritorna prepotentemente con un Fonseca che è pronto a valutarlo perché lo devi valutare Fonseca? Puoi farmi morire forse di infarto entro fine anno? Non lo so Comunque vabbè ragazzi, Bruno Perez, che dobbiamo fare? Io li voglio ancora bene, non l'ho dimenticato Qualcuno mi ha detto, ti regalo i soldi per andare dal barbiere Allora ragazzi, vanno a scrivere questi commenti, non li scrivete perché l'indirizzo PayPal è sotto in descrizione Poi tra altre cose, l'avevo prenotato appunto detto dal barbiere ma mi ha zompato Cioè non è in mezzo un po', me lo so, ho dimenticato perché era 24 la mattina e stavo facendo altre cose Ho dimenticato di andarci Fatta questa debita premessa, mi sembra giusto parlarvi di cose un po' più interessanti Perché Bruno Perez non ce ne frega niente Zonzi, mica e meno Perché sembra che possa essere indirizzata addirittura niente poco di meno che D'Ancelotti all'Everton O a Lyon in Francia, io penso più in Francia lo voglio andare perché ha capito che è un giocatore limitato E poi, e poi, e poi il ritorno di De Rossi perché si parla di un possibile ritorno di De Rossi con Friedkin Allora questa cosa qui me l'aveva, me l'aveva detta un, me l'aveva detta uno di voi Scrivendomi circa dieci giorni fa dicendomi che sapeva che De Rossi stava trattando per ritornare alla Roma Adesso chiaramente può essere una coincidenza, può non essere una coincidenza Cerchiamo un attimino di ragionare Ma non solo su De Rossi, su un pochettino quella che potrebbe essere la Roma con Friedkin Perché dal punto di vista societario chiaramente Perché poi dal punto di vista sportivo questo lo staremmo a vedere Perché ho letto molti commenti di persone che dicono Ah, adesso che si è avviato un progetto che sembra essere convincente dal punto di vista sportivo Siamo andati incontro ad un cambio societario E non era questo il momento giusto di farlo Allora io vi dico Chi va detto che un nuovo proprietario andrebbe a cambiare tutto Perché poi si sparsa questa voce Che voleva un Friedkin qui nella società di pallotta Cioè nella società Roma costruita da pallotta Voleva un Friedkin rivoluzionario Cioè pronto a cambiare tutto quanto Si parlava del figlio Ryan che dovrebbe venire qui a Roma Insomma a gestire un po' le cose Nella figura immagino di presidente della Roma E si parlava di questa rivoluzione pronta ad essere fatta Io sinceramente non capisco per quale motivo si sia data questa cosa per scontata Perché è chiaro che poi dopo potrebbe andare a mettere degli uomini All'interno dell'organigramma Ma sicuramente una cosa che devi tenere a mente Quando fai questa cosa qui Quando c'è un cambio societario È che non è necessaria una distruzione del progetto sportivo Ancorpiù considerando il fatto che il direttore sportivo è arrivato qui da un anno Quindi il suo progetto sta solo all'inizio E andare a cambiare tutto ti potrebbe portare dei danni Non ti potrebbe portare dei giovamenti Quando c'è stato il passaggio societario tra la Roma Tra la Roma di pallotta e la Roma di Rosella Senzi Insomma di Unigret Quando pallotta arrivò ci fu una sterzata netta Ma perché lì si era arrivati veramente alla fine di un ciclo E anche si era allogorata la rosa Quando la prese pallotta la rosa della Roma Era una rosa che era molto 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 vecchia Questa è una rosa che comunque sarà costruita Con criterio Che chiaramente può essere migliorata Ma non è necessario andare a rivoluzionare tutto quanto Quindi Chi diceva questa cosa qui secondo me Diceva una cosa che può essere condivisibile dal punto di vista di altre aree aziendali Come per esempio quella del marketing Quella dell'area commerciale in toto Sicuramente ragazzi lì ci potranno essere dei cambiamenti Ma neanche è detto Perché poi non è detto Ci può essere un cambio di strategia Ma gli stessi uomini possono assolutamente applicare strategie diverse Non è detto che tu debba necessariamente andare a cambiare gli uomini Dal punto di vista sportivo Io non vedo per quale motivo una Roma che fa bene in campionato Debba essere distrutta Completamente Quindi io vi dico Secondo me E si parlava Molti di questi commenti Facevano riferimento al duo Chiaramente Petraghi-Fonseca Si parlava Di una possibilità di una distruzione di questo duo Che sta funzionando Io vi dico Secondo me non c'è assolutamente Questo pericolo A meno che la Roma non faccia male in campionato Questo è un altro discorso Di campionato Insomma Non faccia male in questa seconda parte di stagione Perché se la Roma dovesse far bene Per quale motivo dovrebbe cambiare Ancora più considerando il fatto che Si dovrà andare a Fare un mercato estivo Dopo che tu hai discusso Necessariamente un settlement con la UEFA O comunque hai preso accordi con la UEFA Perché chiaramente non ti può presentare E vendere 100 Cioè realizzare 100 milioni di plus valenza Perché è assolutamente Impensabile che la nuova proprietà Avvenga e si presenti così Il discorso poi Secondo me interessante da fare È questo qui Sempre in considerazione di questo Di questo fatto Della gestione sportiva Perché secondo me Cioè in base alla mia teoria A quello che penso Questo cambio di proprietà E in base anche a quello che vi ho detto ieri nel video Questo cambio di proprietà È un cambio di proprietà Che è stato studiato da tempo Il fatto Che vi sottolineavo ieri nel video Cioè non ci sono altri Interessamenti concreti In un momento in cui poi Il progetto stadio sta avvolgendo Al suo termine Non ci sono altri interessi Interessi certificati Da parte di altri investitori Mi sembra Come se Questa trattativa Sta già lì da un pezzo Come se questa trattativa Vuole essere portata avanti Da tutte e due le parti Da parecchio tempo Da parecchio tempo quanto? Ma secondo me ragazzi Non sarei sorpreso Di venire a scoprire Poi che I contatti tra Pallotta e Frickin Fossero iniziati Siano iniziati Addirittura All'inizio dell'estate scorsa Prima della Campagna acquisti Sapete come la penso La campagna acquisti Non aveva assolutamente senso Quella dell'estate scorsa È stata una campagna acquisti Che ha aggravato i costi della società Chiaramente ha mantenuto la Roma Ad un livello di competitività Addirittura forse superiore Rispetto a quello dell'anno scorso Quindi è stata una campagna acquisti Buona Fino ad oggi Ma è stata sicuramente La campagna acquisti onerosa E allora qui io vi dico Secondo me il fatto Cioè Non si deve temere un cambio Di indirizzo sportivo Secondo me nella Roma Secondo me si deve Secondo me quello che è stato Che è stato fatto In questa sessione di mercato È stato fatto anche con Il benestare di un eventuale acquirente Che in questo caso Secondo me Era già Frickin da tempo E Molto probabilmente sarà Frickin Perché Staremo adesso a vedere gli sviluppi Insomma se dovesse essere così Secondo me L'indirizzo sportivo è già stato dato La campagna acquisti Dell'anno scorso Secondo me è stata fatta Anche in considerazione Di un ok di massima Che è venuto da un potenziale investitore Cioè perlomeno questo è quello che penso io Poi staremo a vedere Il tempo che cosa ci confermerà Dall'altro lato poi C'è questa notizia di un ritorno di De Rossi Che andrà poi Analizzata bene nel dettaglio Sta di fatto che Il ritorno di De Rossi Significherebbe tantissime cose Come è stata gestita La vicenda De Rossi Probabilmente Se quello che vi ho detto È vero Di un comunque Insomma un contatto di massima Anche prima dell'estate Tra Frickin e Pallotta Per una gestione E vi vengo a dire Ancora prima Perché se vi ricordate L'anno scorso Quando vi dicevo di Conte Ok Conte All'Inter È un allenatore Che ha potuto usufruire Di una campagna acquisti Faraonica Però l'anno scorso Noi dicevamo Prendi conto Ok ma che cosa Gli può garantire La Roma di acquisti Cioè allora Giocavamo sul fatto Che potesse rimanere Manuas Che potesse andare A rivalutare In Zonzi Cioè andare a rivalutare La Rosa Non a fare Acquisti successivi Ma dopo abbiamo scoperto Che la Roma comunque Ha aggravato il bilancio E quindi Andando indietro Mi viene in mente Dire anche l'abboccamento Che la Roma Fece con Conte Era forse qualcosa Di già Cioè Che potesse essere Poi collegata Ad un'eventuale Eccezione in futuro Ma poi lo scopriremo Più là nel tempo E allora io vi dico De Rossi In chiusura di questo video Secondo me La gestione Totti e De Rossi Anche qui ragazzi Potrebbe tranquillamente Essere stata Una gestione Che sarà concordata Con un'eventuale Acquirente successivo Con Frickin Un Totti fuori Ed un De Rossi Comunque Che la Roma Voleva mantenere All'interno dell'organigramma Ma come All'interno dell'organigramma A livello Dirigenziale Potrebbe tranquillamente Essere collegato A questo fatto Qui ragazzi Io non lo escludo Non lo escludo E poi Se dovesse adesso Ritornare Mi viene da dire Che quella carica Importante Che gli era stata Proposta Da Vienga Era una carica Che magari Era stata Indicata Magari Dallo stesso Frickin Questa è un'ipotesi Che mi viene in mente Non so se puoi concordare Ma secondo me Potrebbe tranquillamente Essere così Perché poi Tutto quello Che è stato fatto Dalla primavera scorsa A fine della campagna Acquisti Molte cose Non hanno avuto senso Ragazzi Molte cose Non hanno avuto senso Dai diciamocelo Perché molte cose Sono state irrazionali Il fatto di non dover Rinnovare il contratto A De Rossi Ma di volerlo mettere In dirigenza È stato qualcosa Che non ha avuto senso Perché se tu hai problemi Con De Rossi Non gli proponi Di rimanere in dirigenza La gestione di Totti È stata una gestione Che poi alla fine È stata fallimentare Perché poi Ha portato Totti Ad andare via Ok poi A questo punto Vi dico Tra Totti e De Rossi Mi sembra evidente Che tra i due Quello che All'interno della Roma Chi per loro I nuovi acquirenti Pallotta Volessero Come dirigente Era De Rossi Non Totti Evidentemente Anche a livello di capacità A livello di problemi A livello di visione E quindi Staremo a vedere Come si svilupperà Però tutto quello Che sta accadendo In questi giorni Io sto tornando Indietro agli eventi Dell'estate scorsa E cercando di capirli In ottica Un'eventuale In ottica Di una sessione Che era già stata programmata Io la vedo così Poi non lo so Farmi sapere Qualcosa Ne pensate I prossimi giorni Usciranno altre notizie Quindi magari Ci ritorneremo sopra Ciao Tattico E ciao a tutti quanti